Hello ragazzi, ciao a tutti e ben tornati qua su Minecraft Allora ragazzi, oggi voglio creare una cosa che mi è stata suggerita qualche giorno fa perchè Nick le cose se le segna e poi le fa quando può Non dice niente ma poi magari se può le fa, soprattutto se l'idea gli piace Allora ragazzi, oggi, leggo un attimo il nome Oggi voglio fare quello che Speck YouTube mi ha suggerito di fare Cioè, su Minecraft fai un sistema di fontane che di giorno si accendono e di notte si spengono Non dimenticare di mettere il mio nome nella costruzione ma ovviamente come ho sempre fatto Allora ragazzi, sta cosa qui l'ho dovuto un po' studiare naturalmente Perchè non era una cosa che non l'avevo mai fatta Però pare che si può fare, quindi la facciamo Però sto schifo qua non si può vedere Eh no, prima perchè comunque per creare un sistema di fontane che si accendono e spengono Ci vuole spazio perchè devo costruire delle fontane un po' grandi Altrimenti è un problema Altrimenti non si può fare, fontane piccole è troppo complicato Quindi ho bisogno di spazio Davanti a casa lo spazio è troppo poco Quindi le fontane le facciamo dietro Ma per cominciare tappiamo tutti sti buchi Perchè deve essere tutto bello dritto Tutto piano E poi se può fa Anche perchè le cose fatte male non sono mai belle Eeeh O magari Si si no facciamo così Facciamo così Allora raga Diciamo che Questo spazio qua Per ora è sufficiente Per quello che dobbiamo fare noi Allora dunque ragazzi Devo un attimo riflettere sulle misure Mi pare che avevo scelto delle misure Tipo 7x7 Ok ragazzi Allora mi sto praticamente a prendere le misure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Praticamente qua dentro è l'area della piscina Quindi tutti questi li devo rimuovere Magari ci avessi qualcosa Per continuare a scavare Ok ragazzi allora torniamo a casa Perchè mi servono un po' di materiali A parte anche una bella pala Che come avete visto Non ce l'ho già più Eeeh Praticamente ragazzi Andiamo a prendere un po' di materiali Utili per Cioè per tutto il necessario Tutto quello che ci serve Per costruire Queste Ne metto praticamente due di fontane Più o meno come queste Però Come mi avete chiesto voi O come mi ha chiesto Spec Le faccio Più diciamo Automatiche Per il giorno E la notte Ok ragazzi Allora Eeeh Più o meno ho preso tutto quello che mi serve E noh Ma anche una cosa Comunque praticamente ho preso Un po' di ripetitori redstone Due pistoni appiccicosi Servono E naturalmente due distributori Per far diciamo apparire E far sparire l'acqua Due secchi di acqua Tra non molto Tra non molto li riempiamo di acqua Mi porto dietro le lampade Magari trovo un po' Come utilizzarle E poi Eeeh Volevo prendere un po' di vetro Però Ho finito E no Se no li faccio Se no facciamo del vetro rosso Ok Vetro rosso Dai Che è sempre quello nero Sempre nero Sempre nero Ogni tanto cambiamo colore Eeeh Dovrei avere tutto il necessario Per fare anche questo Sensore Perfetto Ok andiamo ragà Forza Costruiamo ste fontane Ah Come materiali Da costruzione Ho preso anche Eeeh Blocchi di argilla indurita Bello Bello Mi piace Però mi sa che non c'è bastano Probabilmente Magari mi bastano per due fontane Non lo so Ma mi sa anche di no Mi sa di no 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 Probabilmente no Mi sa che dovrò andare a prendere un po' di sta roba Comunque com'è che ho fatto Uno Due Tre Ok Ok quindi Qua C'è l'altra fontana Ovviamente sti blocchi Non possono bastare Agilla gialla indurita Dovrei andare a prenderne un pochetto Eeeh Eeeh Nel Bioma mesa Dovrei andare la Se non mi sbaglio Se tiro dritto per di qua Ci andiamo a finire nel bioma mesa Eccolo la il bioma mesa Che vi ho detto Basta dire a dritti e si arriva nel bioma mesa Allora Agilla Gialla Indurita Dovrebbe essere Questa qua Uno Due Tre Quattro Insomma Piliamone un bel po' Ole Finalmente Eccoci qua Con gli ultimi blocchi Di argilla gialla Indurita Dopodiché Iniziamo qui a scavare Perché ovviamente La fontana Più o meno è come Quella che ho fatto per La mia casa Però naturalmente È un pochetto diversa Un poco 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 Diversa Eeeh Qui a me mi serve Conoscere Il centro Della fontana E ovviamente Non è difficile Perché Uno Due Tre Uno Due Tre Quattro Questo è il centro Stessa cosa devo fare Da questa parte Ok Perfetto Allora Al posto del blocco Di questo blocco centrale Ci mettiamo Qualche blocco Diverso Naturalmente Per segnarmi Il centro Perché Deve rimanere Fermo Sto blocco Non deve togliersi Perché noi Qua Dobbiamo naturalmente Continuare a scavare Mica possiamo lasciare La sabbia Come fondo Della piscina Ok ragazzi Allora Poi Dobbiamo Anche Sistemare Per benino La parte Diciamo Che non si deve Vedere Perché ci deve essere Una parte Che non deve Vedersi Quindi O metto Sti blocchi Qua Ma mi sa Di si Ok Facciamo In questo Modo Poi Creiamo Qualcosa Di più Piccolo Per forza Perché Dobbiamo Nascondere Tutto Il sistema Che fa Funzionare Questa fontana Quindi Così Lasciamo Qui per uscire Per ora Continuiamo Un attimo A scavare Qua sotto Allora Il centro È Teoricamente Credo Questo Qui sopra Ci mettiamo Una torcia Va bene Poi Qui Ci viene L'acqua Quindi Magari Andiamo Un po' Più In basso Facciamo Così Questa torcia Si spegne Andiamo Qua Questa Rimane Accesa E Poi Quindi Mi sa Che dobbiamo Andare Così Poi Ci mettiamo Una di Quest E Qui A che Altezza Siamo Dobbiamo Andare Ancora Un po' Più In alto E Qua Viene Un po' Complicato Quindi Andiamo Ancora Un po' Più In alto Ok Ok A questa Altezza Dovrebbe Andare Bene Distributore Va bene E' Spento Ovviamente Dentro Al distributore Ci dobbiamo Mettere L'acqua Quindi Qua Dovrebbe Eserci Un po' Di Acqua Prendiamo L'acqua E Cominciamo A Inserirla Dentro Al Dentro Al Distributore Ok Teoricamente Chiaramente Sta dolce Deve Vedersi Per forza Quindi Qua Possiamo Metterci I Blocchi In Vetro Rosso Per Non Per evitare Che l'acqua Va Insomma Sulla Torcia Ok Fino a qua Ci siamo Basta Dagli Poi Segnale E La Cosa La Risolviamo E Dunque Dopodiché Qui ci devo mettere Tutto il pavimento Che ancora Non ho deciso Cosa Ci metto Le assi Di betul Ma no Il legno Diventa Teoricamente Fratico Nella realtà Quindi Non ha Senso E Allora Ci mettiamo Sempre I mattoni Di pietra E Un Misto Si Mattoni Di pietra E Argillatura Se mi viene In mente Insomma Qualc'altro Materiale Uso Altro Per ora Ho questo Almeno la Completiamo Se avete qualche Materiale da suggerirmi In caso lo cambiamo Non è un problema Dunque Però Prima Mi devo creare Una via di Fuga Una via di Riuscita Quindi Noi andiamo Per di qua Eccolo Andiamo Fin sotto All'altra Fontana Andiamo Qua sotto Ok Adesso Qui possiamo Coprire Coprire Copriamo Tutto In modo tale Che l'acqua Non va A colpire L'impianto Ok Qua è tutto Coperto Così la fontana Può funzionare Tranquillamente Poi Qui Si Devo coprire Ma allo stesso Tempo Mi pare Che Se allarghiamo Un po' Male Non fa Ok Dunque Com'è che ho fatto La Ho fatto Così Mi pare Ok Giustamente Vediamo Sì Mettiamo Questo Qua Poi Mi pare Che qui Ci ho messo Una torcia Sopra Ci mettiamo Di nuovo Questo Un'altra Torcia Un attimino Giusto Per Piazzare Cosa ci ho messo Poi un altro Di questo Sopra Ok Quanti Mi ho messi Uno Due Uno Due Dunque Mettiamo Di nuovo Il vetro Colorato Allora Secchio Con l'acqua Messo Perfetto Quindi Teoricamente Parlando Vediamo Vediamo Un po' Come ero Rimasto Qua Ok Ci devo Mettere Sempre La solita Torcia Sotto Quindi Il sotto E qua Quindi Una bella Ecco Mi so Dimenticato Beh Almeno Sappiamo Che Funziona Dai Dai Vai via Acqua Vai Via Ok Mi so Dimenticato Beh Almeno Sappiamo Che Funziona Raga Sappiamo Quanto Meno Che Funziona Poi Poi Mettiamo Quindi Prima Questo Qua Questo Qua Teoricamente Oh Perfetto Non succede Così Più Niente Bene Adesso Devo Tappare Qui Come ho Fatto Dall'altra Parte Allora Le fontane Sono Pronte Dobbiamo Soltanto Sistemare Il Circuito Devono Praticamente Far Uscire L'acqua Di giorno E di notte Devono Stare Come sono Adesso No Quindi Diciamo Senza Acqua Allora Il Circuito Va Costruito In questo Modo Qui Ci Mettiamo Un Ripetitore Qui Ci Mettiamo Un altro Ripetitore Praticamente Il Quella Si spegne Quella Si accende Insomma E facendo Così Esce L'acqua La stessa Cosa Vale Vale Per queste Torce Allora Dobbiamo Creare Spazio A sufficienza Per il Circuito Il Circuito Che Gestisce Il Circuito Che Gestisce Il Segnale Ok Questo Spazio Qui Dovrebbe Bastare Allora Il Circuito Non È Il Mettere Questi Allora Ragazzi Vedete Che Metto Un Uno Di Redson Qua Poi Ragazzi Prendiamo Ripeti I Ripetitori Ne Mettiamo Uno Qua Qui Scaviamo E Ci Mettiamo Il Pistone Appiccicoso E Sopra Ci Mettiamo Un blocco Dobbiamo Allargare Ancora Di Più Poi Ragazzi Mettiamo Un Ripetitore Qua Qua Ci Mettiamo Il Pistone Appiccicoso Un'altra Cosa Importante Un Tick Un Tick Se No Non Funziona Poi Ragazzi Mettiamo Uno Di Redstone E Due Di Redstone Qua Ragazzi Ci Dobbiamo Mettere Un Blocco Con Una Torch Può Essere Che Ora Si Accende Qualcosa Comunque Va bene Non importa Con una torcia Redstone Dobbiamo ancora Continuare ad allargare Perché sto circuito è abbastanza grande Cioè È un po' complicatello Tutto lì Allora Fatto ciò Ragazzi Mettiamo Mettiamo Un Ripetitore Qui E adesso Praticamente Per far funzionare Il tutto Mi pare Che basta Mettere Il Sensore Qua Ok L'acqua Se ne va Quindi bisogna Fare Al contrario Proviamo a togliere Il sensore E L'acqua Torna Ok Quindi dobbiamo Invertire Un'altra volta Il segnale Ok Facciamo così Il sensore di luce Lo spostiamo E lo andiamo A mettere Lo mettiamo Qui Vediamo un po' Dov'è il centro Uno Due Tre Questo è il centro Quindi mettiamo Il Sensore Sensore lo mettiamo Qua Poi naturalmente Ci mettiamo Un Ripetitore Un Blocco Qualsiasi Un No Una torcia Redstone E Questo Ok E' normale Siamo C'è C'è il giorno Quindi è giusto Che E' giusto Che l'acqua C'è Teoricamente Tutto corretto Teoricamente Parlando E' corretto Allora Copriamo Fino a qua Va bene Mettiamo Quindi i blocchi Qua Così Tappiamo Ok Fino a qua Quanto meno Poi magari Qua ci viene Uno scalino Quello che ci viene Viene Qua sopra Quindi ci mettiamo La sabbia Così non si vede Niente Il circuito Che è sotto Non si vede Ora Per coprire Qua Aha Ok Bella Questa E qui Come cacchio Copro Allora Tanto vale Che qua Allunghiamo Ancora Un pochetto Ok Si si Va bene Così Così Va proprio Bene Ok Qua c'è Il sensore E allora Qui possiamo Chiudere Tipo Così Copriamo In questo Modo Ci mettiamo Un bel Blocco Di vetro Va bene Ok Raga E teoricamente Le fontane Sono pronte Teoricamente Parlando Dovrebbero Essere Pronte Ste fontane Per intanto Raga Ovviamente Ne approfittiamo Per mettere Il cartello Dove lo metto Il cartello Ok Lo mettiamo qua Allora Suggerito Da Fammi vedere SP3 K U2 Ok Fatto Bene Raga Sta per arrivare La notte Vediamo Se La fontana Si spegne Oppure No Non me sta Sembra Che Fu Aspetta Oh Mi pare Che non funziona Invece Quanto Stavo per dire Cavolo Non funziona Menomale Mamma mia Mi ha fatto via Un colpo Tutta sta fatica Qua E noi Che ci risolvo Tanto le torce Sono spente Che ce le metto A fare Lampate Se la torce Spenta Non funziona Lo stesso Dovrei Sennò Invertire Qua sotto Un bel lavoraccio Mi sa che Mi sa che però Lasciamo le cose così E' un lavorone Riuscire a far Accendere Le lampade Quindi Va bene così Niente lampade fuori Le mettiamo Da qualche altra parte Allora L'acqua non c'è Andiamo a dormire Vediamo se di giorno L'acqua torna Bella dormita Eccolo là Mamma mia Ragà Le fontane Di nicche Ok Ragà Funziona E questa è andata Che bello Che bello Ragazzi Spero tanto Che questo gameplay Vi sia piaciuto Direi che Ci fermiamo qua Naturalmente ragazzi Come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Se questo video vi è piaciuto Se avete qualche suggerimento Da darmi Eventualmente Per migliorare L'estetica Delle fontane Scrivete Ragà Vi saluto Ciao Alla prossima